Di nuovo insieme con la nostra dietologa, la dottoressa Daniela Limonta. Ciao Daniela, ben ritrovata. Ciao Katia. Come già detto la scorsa settimana, noi continuiamo a parlare di dieta vegetariana. E la premessa appunto che sempre più persone abbracciano questo tipo di alimentazione. Esatto, se ne contano ormai in Italia circa 4 milioni di persone che seguono alimentazioni a base vegetale. La scorsa settimana abbiamo parlato un po' della differenza tra i latovo vegetariani, i vegani, i crudisti. Comunque nel complesso sono un numero considerevole. Oggi voglio proprio dare dei consigli pratici alle persone che decidono di optare a questa alimentazione per cercare di coprire i propri fabbisogni di proteine, vitamine e sali minerali. Per un onnivoro coprire i fabbisogni nutrizionali è relativamente facile. L'importante è mangiare sempre cose varie. Laddove invece vengono escluse delle categorie di alimenti, in questo caso gli alimenti di origine animale, diventa un po' più difficile, soprattutto per alcune vitamine. Ma partiamo con l'alimento principale per ogni vegetariano e vegano che è la frutta. Noi in onnivori dovremmo consumare 2-3 frutti al giorno. Il vegetariano e il vegano devono consumare almeno 3 e 3 frutti diversi, possibilmente. Quindi se mangia alla mela una mattina, a metà mattina deve mangiare una banana e alla sera una pera. Perché sono importanti diversi? Perché ogni frutto contiene delle vitamine e dei sali minerali diversi. Se io mangio 3 frutti diversi andrò ad avere un pool vitaminico di sali minerali più vario. È importante poi che siano di stagione. Perché è importante di stagione? Perché dal momento che io raccolgo dall'albero una mela, in quell'istante ho il massimo contenuto di vitamine e anche di antiossidanti, che poi decadono nelle settimane. Quindi io una mela posso mangiarla anche a 3 mesi dalla raccolta, però sicuramente conterrà meno vitamine e meno sali minerali, soprattutto meno antiossidanti. Se sono un vegano o un vegetariano dovrò sempre optare per la frutta e la verdura di stagione. Abbiamo parlato di frutta, parliamo di verdura. Noi onnivori dobbiamo mangiare 2 porzioni di verdura al giorno, secondo le linee di guida di sana e corretta alimentazione. I vegani e i vegetariani 3. E anche qui 3 verdure diverse e di stagione. Poi un consiglio in più, è meglio mangiare la verdura a inizio pasto. Quindi tradizionalmente, io che sono onnivora, mangio un primo, poi mangio un secondo con la verdura come contorno. Il vegetariano e il vegano dovrebbero iniziare il pasto con la verdura. E perché? Perché se mangio la verdura a stomaco vuoto, in quel momento il mio stomaco ha la massima capacità di assorbire vitamine e sali minerali. Perché poi inizierà la digestione, quindi inizierà ad essere pieno di acido cloridrico e quindi il quantitativo di antiossidanti che andrò ad assorbire diminuirà. Quindi se sono vegano o vegetariano, iniziare sempre con una bella porzione di verdura, meglio ancora se cruda. Quindi col classico crudité. Quindi almeno 3 porzioni, pranzo, cena, poi magari ci mettiamo lo spuntino del pomeriggio. Lo spuntino che potrebbe essere appunto un frutto o un centrifugato di frutta e verdura. Magari facciamo un certificato di mele e carote. Veniamo invece ai cereali, perché i cereali sono quelli che insomma danno proprio la benzina. Esatto, sono alla base dell'alimentazione di noi onnivori e sono alla base dell'alimentazione anche per i vegetariani e i vegani. Per noi che seguiamo una dieta mediterranea, il quantitativo di carboidrati deve essere intorno al 50-55%, per un vegetariano deve salire al 60%. Quindi il vegetariano e il vegano devono mangiare cereali ad ogni pasto. Quindi colazione, spuntino a metà mattina, il pranzo e la cena, sempre. Ma che cereali? I cereali non raffinati, quindi cereali integrali. E che differenza c'è? A livello calorico veramente poca, quindi non è una questione di dieta, di calorie, di dimagrire o ingrassare. Ma perché nel seme del cereale non trattato integrale è presente la vitamina del gruppo B. Quindi la vitamina del gruppo B, che normalmente è presente negli alimenti di origine animale, visto che i vegetariani quelli non li mangiano, lo possono prendere mangiando i cereali integrali. Quindi sempre pasta, pane, riso integrali. E andiamo anche a scegliere bene che sia un integrale vero, che non sia una farina bianca con l'aggiunta di crusca. Deve essere proprio un cereale non trattato integrale. Quindi il famoso, settimana scorsa parlavamo degli scontri che delle volte ci sono in famiglia quando i genitori non accettano i figli che diventano vegetariani, vegani. Non andiamo mai allo scontro, ma se dobbiamo cucinare per loro, piuttosto che un piatto di pasta, facciamo un piatto di pasta integrale. È buona comunque, anche noi un nivoli apprezziamo. 20 anni fa la pasta e il pane integrale probabilmente non erano tanto buoni, perché negli impasti della farina c'era tanta crusca, c'era la lignina, quindi erano anche un po' amari i panni integrali, le paste integrali. Adesso la tecnologia alimentare si è evoluta. La pasta integrale è più buona di quella normale, ma provatela tutti, anche gli onnivori, anche se avete i bambini a casa. Tutti dovrebbero imparare a mangiare i cereali non trattati. E anche le torte, farle con la farina integrale, non cercare la farina 00. Provate a fare lo stesso impasto con la farina integrale e vedrete che anche i dolci saranno buonissimi. Perché la farina integrale è migliore da tutti i punti di vista. Poi in particolar modo è importante per i vegetariani e i vegani, ma è importante anche per tutti noi. Poi la binata migliore di un piatto di pasto di riso integrale è quella con i legumi. Quindi il cereale manca di un aminoacido che è la lisina, ma se noi mangiamo riso e piselli, pasta con i ceci, pasta e fagioli, pasta e lenticchie, il legume mi fornirà quell'aminoacido che mi manca e il piatto sarà davvero completo. Perché i legumi sono l'altra parte fondamentale di una dieta di un vegetariano e di un vegano. Non c'è il rischio che, insomma, al di là di questi aspetti che sono importantissimi, proprio per non creare uno squilibrio nutrizionale, si crei anche un po' di monotonia. Perché per gli onnivori, insomma, le possibilità sono pressoché infinite. Ecco, allora, se ci limitiamo alla pasta e al riso e ai piselli, fagioli e l'insalata, ma se davvero andiamo a comprare anche prodotti alternativi come i derivati della soia, il tofu, il tempe, ci sono tanti prodotti particolari per vegetariani e vegani che troviamo nei supermercati, ormai dei prodotti nei negozi bio, c'è una grandissima varietà e quindi la monotonia non c'è più. Poi basta davvero comprare un libro di ricette vegetariane e vegane e ci possiamo davvero sbizzarrire, perché c'è una grande varietà di prodotti. Pensiamo anche ai pseudo cereali, l'amaranto, la quinoa. Noi li cuciniamo come dei cereali, ma sono dei vegetali, non sono dei cereali. Infatti si chiamano pseudo cereali. Hanno tante calorie. Pensiamo all'amaranto. È uno pseudo cereale che si presenta come delle piccole palline, va cotta esattamente come la pasta. È estremamente digeribile, è ricco in magnesio, è ricco in ferro, in vitamine del gruppo B ed è squisito l'amaranto. Solo che va provato. Ovvio, magari non tutti lo conoscono, basta comprare una volta, cucinarlo bene e anzi dirò una dritta per i pazienti, i nostri telespettatori anziani. È molto, molto digeribile. Quindi un amaranto cotto bene è più digeribile di una pastina. E poi ricordavamo appunto anche la scorsa settimana che il mercato, secondando anche queste tendenze, offre libri, offre ricettari, offre insomma tanti spunti perché si eviti poi il rischio di limitarsi appunto solo alla pasta ai fagioli, alla pasta ai ceci o ai piselli. Quindi vegetariani, vegani sì, ma ben informati. Poi altre cose importanti per loro, la frutta secca. Noi mangiamo gli acidi polinsaturi con il pesce. Se sono vegano il pesce non lo mangio. E quindi dove vado a prendere quei polinsaturi? Con la frutta secca. La frutta secca deve essere sempre presente nell'alimentazione di un vegano. Attenzione alle calorie però, perché la frutta secca sì è buona, è polinsaturo, è omega 6, quanto vuoi, però ha tante calorie. Quindi deve essere mangiata con moderazione. 3 o 4 noci, 4 o 5 mandorle, senza mai esagerare. Poi una cosa importantissima per gli omega 3 e gli omega 6, soprattutto per i vegani, è l'olio dei semi di lino. Un vegano è obbligato a introdurre nella propria dieta questo olio, perché è un olio ricco di omega 3 e omega 6, che se no altrimenti non riuscirebbe a bilanciare. Quindi l'insalata si condita con l'olio extravergine di oliva, ma devo anche aggiungere un cucchiaino a pranzo, un cucchiaino a cena di questo olio. È un olio un po' caro, ma ormai lo si trova anche a prezzi contenuti. Il mio consiglio è, una volta aperto, conservatelo in frigor, coprite la bottiglia con dell'alluminio, della pellicola di alluminio, perché tende ad ossidarsi con la luce del sole, e un altro consiglio, comprate le bottiglie piccole, perché dall'apertura tendono a decadere gli omega 3 e gli omega 6 nel giro di 10-15 giorni. Quindi se compro un litro e vado a un cucchiaio al giorno, mi dura di più di 10-15 giorni. Allora io opterei per le bottigliette piccole. Esistono anche in commercio bottigliette da 200 ml, che veramente si consumano in 10 giorni, così ho la certezza di prendere i miei omega 3 e omega 6 non ossidati. Daniella, ti faccio questa domanda, è un po' una curiosità. Un vegano, un vegetariano, quindi in base a quello che dicevi, non è immune per esempio dal pericolo dell'obesità, piuttosto che da altre disfunzioni, perché nell'immaginario collettivo mangia meno proteine, meno carboidrati. Le malattie ce le hanno anche loro, e li vediamo soprattutto nei dietologi. Quando viene da noi un vegano, non viene per impostare una dieta, perché il vegano, che io dico sempre non è una dieta, è una filosofia, le conosce bene queste cose, viene quando ha bisogno di un aiuto in più. Quindi io vedrò i vegani che mi dicono, ma io sono diventato vegano, però ho messo 12 kg. Perché? Perché sta esagerando con i carboidrati. Quindi lì una dieta fatta bene, anche vegana, può far dimagrire. Magari ci sono carenze di iodio, e allora gli insegnerai ad usare un po' di più le alghe. Le alghe macinate e essiccate nell'insalata danno quello stimolo allo iodio e alla tiroide, che potrebbe aiutare. Però non esistono i vegani, sono tutti magri, sono tutti sani, anche vegetariani. Purtroppo si vedono tanti anche vegetariani e vegani, in sovrappeso sono quelli che vediamo noi dietologi, perché vengono da noi per dimagrire. Poi un'altra cosa, l'ultimo paziente, mi è capitato, un ragazzo che è diventato vegano da un anno, portandomi gli esami del sangue, dicendo, mi spieghi un po', io bevo il colesterolo a 2,80, sono diventato vegano, io ho letto che il colesterolo è dentro solo negli alimenti di origine animale, mi spiega come mai il mio colesterolo è rimasto a 2,80? Come mai? Perché lo produciamo noi, l'80% del colesterolo circolante, non è quello che mangiamo con i cibi, è quello che produce di notte il nostro fegato. Questo soggetto aveva una dislipidemia familiare su base genetica, quindi è il fegato di questo ragazzo che di notte stampa colesterolo. Quindi sicuramente non era quella la soluzione, deve essere una scelta fatta per motivi etici e quant'altro, ma se vogliamo risolvere completamente il problema del colesterolo e abbiamo una dislipidemia genetica, non lo risolviamo eliminando gli alimenti di origine animale. Daniela, grazie. Credo che tutti i vegetariani, i vegani e via dicendo abbiano molto apprezzato questi tuoi consigli pratici per alimentarsi comunque sempre in modo corretto. Buona settimana e ci rivediamo alla prossima puntata. Certo.